Ciao a tutti, mi chiamo Yolanda e sono mediatrice culturale del Sistema Museale d'Ateneo di Bologna. Oggi ci troviamo nel museo di Palazzo Poggi, un palazzo del Cinquecento appartenuto alla famiglia Poggi. Il proprietario era il cardinale Giovanni Poggi, che deciso in età del Cinquecento di ristrutturare e decorare il palazzo per farlo diventare la sua abitazione. Nel 1711 questo palazzo diventa l'Istituto delle Scienze, per il volere di Luigi Ferdinando Marsigli e l'aiuto del Senato Bolognese. Qual era il suo intento? Cosa intendeva per Istituto delle Scienze? Aveva un progetto ambizioso e originale, voleva trasformare le antiche stanze di questo palazzo in veri e propri laboratori scientifici, dove si poteva sperimentare, osservare con i propri occhi se quello che si studiava era vero oppure falso. E vedremo come questo aspetto sarà molto importante nel nostro percorso. E lo faremo andando a visitare le sale della scuola di ostetricia, le cere anatomiche di Ercole Lelli e dei congi Anta Moratti e Giovanni Manzolini. Ed eccoci nella sala dedicata alla scuola di ostetricia. Tutta la collezione, che risale al Settecento, si deve al lavoro del medico Giovanni Antonio Galli, professore di chirurgia presso l'Università di Bologna. Nel 1757 fu istituita la catena di ostetricia presso l'Istituto delle Scienze e venne assegnata a lui fino al 1782, anno della sua morte. Galli aveva capito l'importanza di studiare questa disciplina, anche se c'era una certa chiusura mentale da parte degli altri medici, perché la ritenevano un affare di donna e quindi, come tale, era una disciplina autonoma, separata quindi dalla chirurgia. A causa di questa ignoranza, purtroppo, morivano tante donne e molti bambini. Per fortuna, Galli fu sensibile a questa situazione e decise di insegnare alle elevatrici come comportarsi durante un parto, soprattutto in situazioni difficili. Pensate che, inizialmente, queste lezioni venivano svolte a casa sua. Ma chi erano queste elevatrici? Le elevatrici erano delle semplici donne che non avevano avuto la possibilità di studiare e quindi non avevano un titolo di studio di base e non sapevano né leggere né scrivere. Ma pensate che, nonostante questo, erano le uniche che potevano assistere al parto. Galli aveva capito che per insegnare in modo efficace e, soprattutto, veloce a queste elevatrici come comportarsi durante un parto, era sicuramente l'utilizzo delle immagini. Ed ecco perché ha fatto realizzare tutti questi uteri in terra cotta in tutte le varie posizioni difficili. E qui ne abbiamo alcuni esempi, come il cordone umilicale attaccato al collo oppure in posizioni podaniche. In questo modo, le elevatrici potevano osservare, ma soprattutto toccare, capire come era posizionato il bambino per poi successivamente riuscire a fare quelle giuste manovre per girare il bambino nella posizione giusta. Ma perché era così importante poter toccare questi uteri in terra cotta? Dobbiamo ricordarci che nel Settecento non esistevano le ecografie. Quindi l'unico metodo per poter capire come era posizionato il bambino era l'utilizzo delle mani e sempre con le mani appunto bisognava compiere le giuste manovre per girarlo nella posizione giusta. Galli faceva fare le sue elevatrici anche la verifica finale che come potete immaginare anche se era pratica. Ecco qua la verifica finale. Quello che vedete è un utero in vetro, dove all'interno Galli inseriva un bamboroto di pezza in una delle posizioni difficili. Successivamente la elevatrice veniva bendata, perché se vi ricordate abbiamo detto che nel Settecento le ecografie non esistevano. Una volta bendata doveva inserire la mano e fare quelle giuste manovre per girare il bambino nella posizione giusta. Perché quindi il vetro? Perché in questo modo Galli riusciva a vedere se le manovre che facevano le elevatrici erano giuste oppure sbagliate. Quindi promosse o bocciate. La scelta della terracotta come materiale era dovuta al fatto che questo materiale oltre a essere meno costoso, risultava rispetto alla cera più resistente, più manipolabile e quindi didatticamente più efficace. Vi vorrei mostrare anche un feto nella posizione corretta e in una posizione difficile. Ora vorrei concentrarmi su questo feto. All'epoca si pensava che una donna potesse partorire un feto prematuro e somigliante a una rana a causa dello spavento provato dalla futura madre nell'incontrarne una. Ovviamente questo non era possibile, ma come gli ho spiegato prima non si conosceva molto di questa materia e quindi si cercava di dare delle possibili spiegazioni anche se non propriamente su basi scientifiche. Un altro aspetto molto importante erano le scarse condizioni igieniche. Purtroppo capitava che le donne morivano durante il parto a causa delle infezioni e purtroppo non c'erano gli antibiotici come li conosciamo noi oggi. Pensate che solo dopo un secolo un medico ungherese si accorse che lavandosi semplicemente le mani certi batteri si potevano sconfiggere. Oggi più che mai ci chiedono questo, cioè di lavarci frequentemente le mani proprio per salvaguardare noi e aiutare anche gli altri. Tutto il lavoro di Galli venne riconosciuto per fortuna da un papa a favore della scienza. Sto parlando di Papa Benedetto XIV che decise di acquistare tutta la collezione di Galli e non solo, volle trasferire la scuola di ostetricia proprio qui all'istro delle scienze. Bene, con questo abbiamo terminato la nostra prima parte. Se vi è piaciuto vi invitiamo a seguire anche la seconda parte che sarà dedicata alle cene anatomiche di Ercole Lely. Grazie. 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 Grazie.